A citarli? Dai, prendete posto! Stanno tutti arrivando e i nostri ragazzi iniziamo a presentarli, Mario. Allora, Roberto Murgia, facciamone un grande applauso! Gianni De Nanni! Tina Bazzoni! Pino Marsala! Gian Daniele Caldini! Pino Marsala! Accompagnati dalla fisarmonica di Giannuario Sannia e dalla chitarra di Tore Mazzau... Franco Figos! Dov'è Franco? Eccolo qua! Lo stavo cercando! Adesso, come sempre, come consuetudine, si comincia sempre a esagare il suo canto in Re e poi fare due poveri fenomeni legati in Re, con due nuoresi e due muttos. Voi vediamo come è entrata stasera e tentiamo di organizzare al meglio. Tore Mazzau, sono a San Giterra e Giannario Sannia, la fisarmonica. Re, nuoresi e muttos! Sì, trova! «Gracias!» «Gracias!» Nei monitor, vogliamo, non abbiamo una crisarmonica, è staccata, adesso vediamo, vuoi tu cosa, per te va bene così, un attimo purtroppo non è colpa di nessuno, cerchiamo sempre. Musica 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 Sarò danzato in te ora Ora per te si farà la pia 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 Sarò danzato in te ora 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 Marcella è la flora mia E che io è mella aluncada E mi rosa bella aluncada E se ne diceva E mi rosa bella aluncada 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 E si ne diceva Grazie a tutti. 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 a tutti.